Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Con un incredibile balzo di baturazione rispetto al precedente Madonna che silenzio c'è stasera, già recensito su questo canale, appena un anno dopo da quell'esordio, nel 1983, il duo Ponzi-Nuti trasporta sul grande schermo un'altra commedia, questa volta non incentrata su temi sociali ma su una passione sportiva, quella del biliardo. Argomento caro allo stesso Nuti, che si dimostra nel film anche giocatore abilissimo, Io Chiara e l'Oscuro avrà anche un sequel, Casablanca Casablanca, che riprenderà nel breve periodo gli stessi personaggi. 15 anni dopo invece Nuti dedicherà al biliardo anche una terza pellicola, Il Signore Quindicipalle del 1998. Senza rinunciare ad un pizzico di surrealismo da strada, o meglio da fermata dell'autobus, e a Roma vi dico che può succedere che si fissi l'infinito per l'attesa, in Io Chiara e l'Oscuro Nuti si sposta appunto nella capitale per restare comunque il Toscano intorno al tavolo verde. Suo rivale è un vero campione, Marcello Lotti, che qui si fa chiamare l'Oscuro. I due si incontrano in una bisca lungo la linea 13 del tram, dove il personaggio omonimo di Francesco va ad allenarsi per partecipare al campionato. Da questa bisca si parte e si ritorna per una storica rivincita dopo le alterne vicende del campionato stesso. Iniziata la sfida da solo, Francesco incontra un'altra anima solitaria, la bellissima Chiara di Giuliana Desio, una musicista jazz che vive come lui di notte e che diventa l'unica in grado di sostenerlo nel momento del bisogno, ridandogli fiducia in se stesso. Per farlo arriva ad impegnare il suo amato Sassofono, già protagonista del loro incontro, pur di permettergli di partecipare al campionato. In ballo c'è una grossa somma per debiti di gioco che Francesco ha sottratto ai clienti dell'albergo in cui lavora e che deve recuperare in pochi giorni per non andare in prigione. Insieme nella finzione, ma anche nella vita artistica, si è anuti che la Desio, con questo Io Chiara e Lo Scuro, cercavano conferma delle loro abilità di attori. Meno sciolta e simpatica la Desio, da dimenticare la sua prova canora, l'attrice Campana vivrà però un anno professionalmente appagante, grazie alla partecipazione alle altre due pellicole Scusate il ritardo di Troisi e Chopin di Luciano Odorisio. Più a suo agio Francesco Onuti, che di lì a poco si sentirà pronto anche per la regia, seppur con qualche critica di eccessivo narcisismo. Per questa gradevole e garbata commedia notturna, che avvicina lo spettatore ai misteri geometrici dei colpi, e aggiungerei del punteggio, delle biliardo a nove birilli, la coppia Nuti Desio conquisterà il David di Donatello e il Nastro Argento, rispettivamente come miglior attore e miglior attrice protagonista. Brevissimi cenni di natura tecnica, solo per dire che Io Chiara e Lo Scuro è disponibile alla visione gratuita sul sito di Rai Cinema. Lascio il link in descrizione. Io ho effettuato il download per vederlo via USB attraverso il Blu-ray Sony che trovate recensito alla playlist in alto a destra. Il file, in formato MP4, offre un'esperienza di visione solo discreta, tanto più che bisogna zoomare per eliminare le vistose bande nere e godere, diciamo così, della visione a schermo pieno. Con Io Chiara e Lo Scuro siamo però in presenza di una vera e propria rarità, vista la difficilissima reperibilità della versione in DVD del film. La qualità del nastro VHS da edicola non credo migliori di molto l'esperienza. Curiosità? Il personaggio di Nuti nel film fa di cognome Piccioli, un omaggio al produttore Gianfranco Piccioli. Aiuto regista è nuovamente Riccardo Tognazzi, scritto così nei titoli di testa, che interpreta anche un pescatore infastidito da Anuti. Il titolo di Io Chiara e Lo Scuro, da pronunciare però come Io Chiara e Lo Scuro, è stato utilizzato nel 1998 per una mostra fotografica sul popolo camerunense. Anche per questa video recensione è tutto, ciao e grazie da Federico di Seconda Vita. Lo sai che tu fate ora? Te tutti gli tram e tu ci riporta a casa, capito? Cos'è che faccio io? Gzz, gzz, gzz. Ah, morto.